Ti svegli, ti alzi dal letto e vai in bagno. Spazzolino, dentifricio. Ok, apri il rubinetto. Ehi, fermati! Non ti serve l'acqua per un sorriso perfetto. La spazzolatura secco è un metodo di spazzolatura manuale senza uso di acqua o dentifricio. L'acqua rende le setole dello spazzolino più morbide, quindi meno efficaci nello svolgere il loro lavoro. Se le setole rimangono rigide, invece la placca si toglie meglio. Quindi tieni lo spazzolino a un angolo di 45 gradi sul bordo delle gengive e fai piccoli movimenti circolari tra i denti. Non dimenticare di spazzolare i denti sia sotto che sopra e le gengive. Una volta finito con la spazzolatura secco, prosegui con acqua e dentifricio. Per ottenere il massimo dalla spazzolatura secco, non avere fretta. Datti tra i 5 e i 20 minuti. Non devi rimanere per forza in bagno. Guarda la tv o leggi un libro nel mentre. Ma rimani concentrato sulla spazzolatura. La spazzolatura secco ti aiuta a mantenere i denti più bianchi e più sani, poiché ti fa spazzolare più a lungo. Il sapore fresco del dentifricio ti dà l'illusione che bocca e denti siano più puliti dopo un paio di secondi che spazzoli. Senza di esso inizi a sentire i batteri e la sensazione di dover dedicare tempo ai tuoi denti. Dopo aver rimosso meccanicamente la placca, gli ioni fluoro e il potere sbiancante del dentifricio raggiungeranno con successo la superficie dei denti. Inoltre puoi farlo più volte al giorno. Puoi portarti uno spazzolino in borsa e usarlo per 30 minuti dopo pranzo. È particolarmente utile se ti piacciono tè, caffè, frutti di bosco o pomodoro che lasciano macchie sui denti. È anche molto utile per i viaggiatori che dimenticano il dentifricio o non hanno accesso al lavandino. Puoi usare il tuo normale collutorio o una mentina dopo aver spazzolato a secco. E non dimenticare di risciacquare lo spazzolino almeno una volta al giorno per evitare che i batteri vi si accumulino. Fallo asciugare tra un uso e l'altro in posizione verticale senza copertura. Un altro consiglio per un sorriso più bianco è lavarti i denti con una pasta di fragole 100% naturale. Prendi una fragola fresca e schiacciala con un cucchiaino. Mescolala col sale marino più fine, spalma la pasta su uno spazzolino e massaggia leggermente i denti per qualche minuto. Dopo sciacqua accuratamente la bocca. Per proteggere lo smalto fallono più di una volta ogni due settimane. Ma le fragole puoi mangiarle in quelle due settimane, non ti preoccupare. La buccia di banana contiene sostanze che dissolvono la placca dentale e aiutano a mantenere perfetto il colore dei denti. Trofina l'interno della buccia sui denti da entrambi i lati e attendi 5-7 minuti. Poi lava i denti e sciacqua la bocca. Ripeti tutte le volte che vuoi. Se diluisci 5 gocce di tea tree oil al 100% in mezzo bicchiere d'acqua e ti ci sciacqui la bocca ogni giorno dopo aver lavato i denti, noterai che diventeranno più bianchi in un paio di settimane. Per rendere l'effetto ancora più sorprendente, lava i denti anche con una goccia di olio una o due volte alla settimana, ma non di più. Puoi usare il succo di limone come deodorante sano, ecologico, 100% biologico. Devi solo tagliare a metà un limone e strofinarci le ascelle. I batteri che causano cattivi odori verranno spazzati via dall'acido citrico nel limone. Se non puoi comprare un limone ma senti il bisogno di questo deodorante fai da te, puoi usare lo spicchio che trovi nella tua bevanda al bar. Dovrebbe funzionare. A proposito, anche se usi un normale deodorante che ti macchia i vestiti, il succo di limone può essere d'aiuto. Tutto quello che devi fare è mescolarlo con acqua in parti uguali, strofinarlo sulla macchia e lasciare asciugare i vestiti all'aria. Puoi ottenere ricci perfetti senza usare phon o piastra. Per prima cosa, applica un po' di balsamo sui capelli leggermente bagnati. Poi avvolgi delle ciocche attorno a dei calzini. Lasciale così per la notte e ti sveglierai con ricci morbidi la mattina successiva. Un biglietto da visita o una carta di credito possono aiutarti ad applicare il mascara senza rovinare l'ombretto. Prendi una carta, puliscila con un panno o un disinfettante e mettila sul bordo della palpebra. Premi leggermente. Ora puoi mettere il mascara. Fai scorrere lo scovolino verso l'alto lungo il lato della carta. In questo modo le ciglia saranno perfettamente truccate senza rovinare la palpebra. Se vuoi che lo smalto si asciughi più velocemente, immergi la punta delle dita in acqua ghiacciata dopo aver applicato il tuo colore preferito. Ecco qua, unghie a posto in pochissimo tempo. Usa il mascara sulle radici dei capelli quando hai bisogno di un rapido ritocco. Se hai riflessi biondi puoi acquistare il mascara dorato e provare questo trucco. Copri i capelli bianchi col mascara nero o marrone o anche con un ombretto del colore giusto. Per dare alle sopracciglia un aspetto molto folto ma naturale, fai scorrere uno scovolino su una saponetta umida e poi pettina le sopracciglia come faresti normalmente con il gel. Ora saranno ben delineate e ti daranno un aspetto raffinato. Crema idratante, primer, fondotinta e poi un po' di cipria. Potresti voler riconsiderare questo ordine di applicazione del trucco. Inizia con crema idratante e cipria, quindi aggiungi un po' di spray e primer e finisci con il fondotinta. In questo modo il trucco durerà più a lungo e rimarrà fresco nei caldi mesi primaverili ed estivi. Per proteggere i vestiti dall'elettricità statica, arrotola alcune palline di foglio di alluminio di circa 3 cm di diametro. Tre di queste dovrebbero bastare. Arrotola bene le palline, in modo che siano lisce. Mettile direttamente in lavatrice con il bucato bagnato e pulito, se hai una lavassiuga o nell'asciugatrice separata. Mentre i tuoi vestiti si sfregano l'uno contro l'altro, vengono rilasciate cariche positive e negative. Una volta terminata l'asciugatura, i vestiti con cariche diverse si attaccano l'uno all'altro. Le palline di alluminio risolveranno questo problema, scaricando l'elettricità statica. Un set di 3-4 palline di alluminio dovrebbe bastarti per circa 6 mesi. Il tonico fa un ottimo lavoro, rimuove sporco, trucco e sudore dal viso. Tuttavia, se il tuo non funziona, puoi usarlo per pulire lo specchio, le piastrelle e il piano della cucina senza danneggiarli. Puoi usarlo per lavare il cellulare o la tastiera. Questi dispositivi raccolgono molto sporco i batteri e non si possono lavare con l'acqua. Il tonico può essere utile anche per disinfettarti rapidamente le mani e può essere un'ottima alternativa a un'igienizzante mani. Se hai una crema che non ti piace, prova a usarla sulle cose in pelle. Per rinfrescare l'aspetto delle tue scarpe o borse preferite, mettici sopra un po' di crema e sembreranno nuove. Puoi anche mettere un po' di crema sulle scarpe invernali prima di metterle via in estate. Un'altra idea è quella di usare la crema per sbarazzarsi dei ciuffi ribelli di capelli. A differenza della lacca che rende i capelli duri e appiccicosi, la crema li lascia leggeri. Un po' di crema può aiutarti a rimuovere gli anelli bloccati dalle dita gonfie. C'è un composto importante nell'aspirina che ha proprietà antinfiammatorie e la rende un'eccellente sfogliante. Si chiama acido salicilico e non c'è da stupirsi che sia utilizzato in molti shampoo antiforfora. Puoi trarne il massimo usandone due compresse. Riducile in polvere e mescolale con un po' di shampoo che usi normalmente. Massaggia sui capelli come un normale shampoo, lascia in posa un paio di minuti e poi risciacqua. Molte marche di cosmetici usano il caffè nei loro prodotti perché rende i capelli più spessi, tonifica la pelle e stimola il metabolismo. Anche il latte è un super ingrediente se vuoi salvarti dai segni dell'invecchiamento. Esfolia la pelle e idrata il viso. Quindi prendi due contenitori di vetro e riempine uno con caffè macinato non utilizzato e il secondo con latte preferibilmente crudo. È importante ottenere una pasta densa quando mescoli gli ingredienti. Quindi attieniti alla giusta proporzione, mezzo o un cucchiaio di latte per un cucchiaio di caffè. Mescola il composto fino ad ottenere una pasta densa. Ora è pronto e puoi applicarlo su tutto il viso, tranne che sul contorno occhi. 15-20 minuti e la maschera farà vedere i suoi effetti magici. Poi risciacqua con acqua tiepida. Oh, guarda! Sei come nuovo!